amici del rock and roll ben ritrovati si riaccende il canale anche questa settimana rientriamo in quella zona di comfort che è il paese la città del rock and roll in tutte le sue forme rocksville questo format da me creato ormai diverso tempo fa per ospitare tanti artisti tante band che hanno storie da raccontare perché se non si racconta nulla automaticamente non ha senso fare musica non ha senso registrare dischi album singoli la band che oggi è protagonista del nostro spazio è una band che segue da diverso tempo una band con la quale sicuramente ci sono tante affinità per quanto riguarda parte della loro proposta musicale una band di bravissimi ragazzi che risponde al nome di lennon kelly eccoli qua ben arrivati raga ciao a tutti ciao a tutti buonasera è molto bello ritrovarsi anche se distanti ma vicini a livello di intenzioni di cuore di suoni è un momento molto particolare per voi ovviamente per tutti coloro che magari non conoscono il progetto lennon kelly bisogna fare un passo indietro e raccontare un attimino per solito non vi chiedo la storia di una band che ha un passato importante ma magari le tappe fondamentali che hanno condotto lì fino ad oggi beh sicuramente insomma quando siamo riusciti a capire che il punk rock mescolato insomma la romagna al folk e l'irlanda poteva essere una strada per la felicità e la serenità abbiamo intrapreso sta cosa in maniera molto molto giocosa e genuina quindi si è incominciato come tutte le cose migliori così per provare a stare bene a fare gruppo a mettere insieme dei pezzi di storie diverse per poterle poi mettere anche un attimino in una condizione musicale e poi è nato un progetto che ci sta accompagnando da 12 anni quindi insomma diciamo che le basi che speravamo potessero darci una mano per poter diventare più amici di prima e anche una band magari con un po' di decoro ecco è venuto fuori quindi quindi tutto tutto bene ma che decoro che decoro siete una band secondo me interessantissima l'irlanda citata ovviamente è elemento comune di passione no per per noi ma una delle cose che apprezzo di più delle non calli è la personalità che siete riusciti a mettere all'interno del del vostro progetto perché perché parlare di irlanda ovviamente è bello riempie il cuore ci fa piacere ci sono talmente tante storie da raccontare io personalmente come forse voi sapete mi piace andare a scandagliare i diversi momenti della storia della cultura i libri i film i documentari le storie vere e cerco di riportarle un po in musica voi avete fatto un passaggio in più ovvero da un lato io lo dico tirandomi la zappa sui piedi era semplice continuare a raccontare le storie di un paese così affascinante voi avete scelto una parte di quel linguaggio per dare buona parte di quello che è il vissuto del vostro territorio quando è che avete capito che la romagna doveva essere rappresentata all'interno e raccontata all'interno delle canzoni le non che ma già dal primo viaggio in irlanda che io e il violinista circo abbiamo fatto insieme che non era la prima volta per nessuno dei due insomma abbiamo studiato un po quello che è la mentalità l'attitudine del popolo irlandese e abbiamo trovato delle grandi analogie con quello romagnolo quindi già da lì abbiamo capito che poteva esserci una comunione di intenti poi andando a scavare la storia dei celti poi passare a quella dei galli per quello che è successo nelle nostre zone come con il disco della maranotte quindi ci sono stati tanti inneschi storie che ci hanno portato anche a portare avanti una una sorta di strada da seguire che l'irlanda è stato un punto di partenza sicuramente grande poi però abbiamo talmente tanta roba da dire qua in ste zone che non ci vorrebbero due vite probabilmente quindi speriamo di non perdere tempo di poterle raccontare ancora sempre con quella mentalità e quello stampo che unisce la romagna l'irlanda quindi quello sicuramente è stato ed è tuttora una filosofia che ci porta avanti con con grande serenità in senso che anche le canzoni che si fanno si fanno sempre con quel piglio di dover raccontare una storia e questo qui è alla base di tutto storyteller per forza perché è così che fondamentalmente si creano i brani migliori e le canzoni più interessanti io dovrei fare esattamente con voi quello che ho fatto con tanti altri gruppi che ho amato nella mia vita e appuntarmi su un taccuino quelle che sono le diverse storie che avete raccontato in questi anni passando dal passatore perdonatemi questo gioco di parole che è l'ultimo singolo che avete condiviso che che tipologia di racconto è e a questo punto vi chiedo l'esercizio di stile di trovare un'analogia magari con un altro racconto folk o con un'altra esperienza territoriale partiamo innanzitutto dalla vostra da quella legata proprio al territorio romagnolo chi è il passatore il passatore è stato un famoso bandito effettivamente dalla nostra zona però era un bandito che i suoi obiettivi erano sempre personaggi della borghesia o comunque quelli che erano benestanti o parte politica e come affinità forse non è proprio giusto ma un wario abbinuta e un magnolo potrebbe ricordare lo meno benefattore forse ma diciamo che i suoi obiettivi anche quelli della borghesia che dominava la popolazione ecco in tal senso secondo me è interessante sottolineare questo aspetto cioè il folk in generale si parli a livello di territorio italiano a livello di canzoni partigiane rebel songs se dobbiamo andare a citare la nostra amata irlanda ha sempre questa componente sociale a volte politica che è importante sottolineare quante volte però magari è capitato soprattutto e le annunchelli che hanno questa doppia faccia no le annunchelli hanno la possibilità tranquillamente di esibirsi nelle feste di genere per sono chiamati per i vari e cose di questo tipo quante volte però si è creata magari la dicotomia no perché a me capita purtroppo no che ogni tanto ai ai concerti che faccio arrivi quello che non ha capito niente dice ah le crocicelti che da lì succede un casino per il annunchelli questo credo che sia a maggior ragione un aspetto da sottolineare con forza nella nella comunicazione corretta in merito ai testi e in merito alle tematiche trattate sicuramente noi abbiamo le idee chiare in senso che siamo un gruppo di persone che fin da prima dei kelly ha sempre avuto una necessità di dichiararsi antifasciste e questo è assolutamente alla base di tutto poi sicuramente si fa molta si fa molta confusione come può essere per tolkien come può essere per altri fattori che riconducano al folk alle leggende alle storie c'è insomma c'è chi non ci arriva con la sua testa che prova a prendere magari l'intelletto di qualcun altro per impossessarsene questo e tutto qui succede anche sulle cose di cento anni fa in linea di massima comunque noi abbiamo sempre alla base quello di portare avanti una tradizione che sia basata sull'educazione e sul fatto che la comunione di intenti alla base di qualsiasi progetto artistico e non che ne valga la pena di poter portare avanti le storie di kelly alla fine raccontano sicuramente vita vissuta sotto un certo punto di vista che va a bracetto poi con quelle che ci raccontavano i nonni con quello che ci raccontavano gli fii ed è quello che ci avvicina anche alla romagna stessa che la romagna stessa si avvicina all'irlanda in senso che si parla di folletti si può parlare di fantasmi si può parlare di personaggi di guerriere tutto il sangue che corre da ste parti è molto simile ma non che non ci sia dalle altre parti la questione principale è che la musica è sempre stato un collante tra le parti quindi possiamo suonare al concerto punk rock come può essere stato al bay fest estate e la settimana prima eravamo al festival per secondo casa dei con l'orchestra casa dei che si supportava i pezzi quindi poca maleontica la cosa ma è quello che che ci viene anche naturale fare fondamentalmente e fortunatamente ci viene anche col sorriso e senza nessuna fatica quindi diciamo che spesso celare nei testi nei racconti anche quello che è la nostra vena affinità diciamo sociale politica ti permette di farti ascoltare da tanta più gente questo può essere la speranza che in diversi ambienti comunque il messaggio riesca ad arrivare certo certo il top no no ma importante importante no lo dicevo e lo esplicito perché sai ancora nonostante i cento anni come dicevamo di storie di racconti ci sono ogni tanto quei quei momenti nei quali non si capisce più niente ma non voglio assolutamente sottolineare questo aspetto voglio sottolineare un altro ovvero il fatto che i rennon kelly con il passatore ci anticipano qualcosa che succederà nei prossimi mesi giusto allora abbiamo un po di lavoro in programma stiamo cambiando casa infatti qui siamo nel nuovo studio che sta prendendo vita e abbiamo un singolo che uscirà magari fra qualche mese con un nuovo videoclip e abbiamo anche l'idea dell'anno nuovo di poter fare un disco nuovo perché comunque dal 2018 che è un progetto intero comunque non esce singoli è dal 2018 che siamo autoperidotti esatto ci siamo staccati dalle varie discografiche abbiamo rallentato un po' abbiamo assoluto un'altra forma di lavoro però adesso ci siamo staccati un po' dalle presenze tossiche siamo affiancati da tanta gente preparata che ci dà una mano in studio e nel mondo di internet comunque abbiamo capito che a meno che non si ambisce ad arrivare ai livelli veramente massimi che per carità un giorno potrebbero anche succedere ancora è un tempo di gavetta questo che ci permette di poter fare le cose in casa con le nostre tempistiche appoggiati da un manager molto attento che ci sta dando una mano grossa quindi abbiamo un sacco di lavoro da fare cerchiamo di ottimizzarlo perché in sette come immagini non è molto molto pratico ma comunque ci stiamo prendendo le misure di nuovo un 2.0 nel 2024 sicuramente sarà sarà la luce di tutto 12 anni però sono tanti in questi 12 anni credo che abbiate avuto veramente tante e vissuto esperienze molto diverse forse andando indietro nel tempo c'era stato un momento nel quale il folk il combat folk la musica popolare anche cantata in italiano aveva un occhio di bue puntato no e quindi tante band citiamo le più comuni anche sul territorio italiano banda bordeaux alle quali mandiamo ovviamente un grande saluto e tante altre avevano avuto la possibilità di esibirsi anche su i palchi e vivere un momento di grande attenzione anche nazionale con i media che sposavano addirittura la loro causa per non parlare ovviamente poi di sensazioni estere che noi abbiamo tradotto vissuto gogo il bordello progetto che andò benissimo ricordo un vecchio concerto cos'era forse estate 2006 c'eravate forse anche voi secondo me almeno tra il pubblico al lì al becky bay organizzava libero no sì sì con cola esattamente un estate un agosto del 2006 forse o luglio 2006 a questo vago ricordo ecco ci fu quel momento di grande attenzione per il genere e poi dopo forse un po è stato messo in secondo piano per carità realtà solidissime hanno continuato ad esistere facciamo i nomi grossi modena city ramblers dropkick marfies parlando proprio del mainstream sì sì quello un po più in linea con tutti ecco esatto quanto è stato complicato in quegli anni invece di un po più di buio sulla proposta andare a continuare a proporre questo tipo di sonorità ritrovare le date eccetera eccetera per i lennonchiali che comunque avevano tante cose da dire beh comunque diciamo che nel 2014 abbiamo avuto dopo due anni che si suonava l'opportunità di suonare a berlino con la banda bassotti con i 99 posse ci siamo trovati insomma abbiamo fatto a bordo per i livelli di san paolo abbiamo avuto dei palchi grandi all'estero nei primi passi che paradossale come cosa quindi siamo catapultati in mezzo agli idoli di una vita fuori da casa per la prima volta con la gente che veniva a vederti all'estero insomma c'era una sensazione diversa poi come dicevi tu il folk il combat folk come tutti gli stili di musica c'è una ciclicità che comunque tende a scendere tende ad andare comunque come tutti i generi hanno un andy e rivieni non delle mode momentanee ma dei dei generi come passi del punk il folk il cantautorato oppure quello che può essere un po più incisivo per una persona che ti resti quello che non è sterile comunque c'è un giro vitale che comunque prima o poi ricomincia e finisce poi ritornerà e noi abbiamo vissuto un po la via di transizione secondo me in cui potendo suonare con il google bordello gli scappi ai poves appunto nel 2014 sempre al rock in idro vincendo il concorso cioè insomma si era aperto la scenario che per noi poteva sembrare ok babilonia abbiamo trovato la formula per per poter fare poi invece ci siamo ridimensionati e nel momento in cui ci siamo ridimensionati e si è ridimensionata la cosa poi successivamente il covi di tutto questa impellenza di romagnolizzare ancora di più magari il progetto di dover lasciare ai posteri qualcosa che magari fra 50 anni 60 anni cent'anni vent'anni può tornare utile a qualcun altro è diventato un po l'impellenza di quello che è al cuore del s'aiutato anche che infatti negli ultimi anni ci si sono aperti molte più strade su quello che è l'ambiente proprio folk celtico abbiamo fatto come montelago in cui tutti ci vengono un gran bene torneremo di quell'ambiente a livello nazionale quindi è cambiato un po è tutto oscillante non si sa mai le previsioni e gli esiti sono sempre molto molto distaccate alla fine dei conti quindi per come era partita per come poteva sembrare per come si è evoluta però sinceramente niente rimpianti perché comunque abbiamo una maturità adesso che ci permette di poter essere un po custodia anche della terra in cui viviamo e questo è più importante sia del nome dei quelli stessi e anche di quello che facciamo nella vita normale quindi se la gente si fida e noi trova qualcosa per poter avere uno spunto una serenità e soprattutto fiducia per noi già questo questo è tutto quello che è che va trasmesso alla fine della fine allora avete citato quel concerto meraviglioso che è ovviamente noi non possiamo nella giornata di oggi in questo periodo non parlarne avete citato quel quel concerto incredibile l'ultima occasione nella quale credo tutti noi abbiamo intravisto c'è mcgawen il leader dei poggi era successo anche vedi questo è un altro punto in comune che abbiamo nel 2009 con gli undead noi aprimmo un rock in idro dove i protagonisti erano appunto poggi social distortion eccetera e poi io un carissimo amico abbiamo fatto quella gita verso bologna abbiamo visto voi abbiamo visto tante delle altre bende poi in quella in quella lunga serata piovosa della quale io ovviamente poi ricordo un un difficile approdo noi eravamo nascosti sotto il palco dei fonici altrettutto quando suonavano il posto che più aveva dire noi invece eravamo aiutati da qualche birretta in più sotto la pioggia battente che ovviamente non possiamo non parlare di lui che cosa ha significato per voi il percorso artistico di shay mcgawen da un lato sul sull'incredibile talento di scrittura di questo poeta dall'altro quanto è stata determinante la carriera con la sua beh con le sue band oggi in questo lungo momento di ricordo che tutto il mondo sta sottolineando ok no allora anche prima erano minosterie ne stavamo parlando del fatto che comunque ce lo immaginiamo adesso non so in quale luogo etereo a brindare con joe strammer visto che comunque anche già strammer è stato parte di pox per un certo periodo quindi si faceva un po il paragone l'associazione tramiti e appunto il folk e punk è stato inventato diciamo sotto un certo punto di vista ma senza volerlo ed è quella la cosa come stata creata la gimme per un errore fondamentalmente ed è diventata il simbolo e l'emblema di uno stile di una nazione e di chi ama determinato tipo di musica di di concetto di cultura e i pox hanno sono stati gli evi di tutti ecco quindi insomma da lì si è partito e da lì si possono imparare continuare anche a prendere rubare con il lato buono della parola e soprattutto bisogna dire grazie a una popolazione che lui ha incarnato comunque nel vero senso nel paradosso nel bene nel male e alla fine la resi mortale lui è la bandiera irlandese trapiantata un microfono secondo me quindi sa sta sta vena di dannato sbruffone che neanche magari riesce ad avere una tecnica che lo può mettere di fianco ai grandi ma i grandi pici in testa con tutto il permesso cioè in senso quando l'intenzione supera tutto non c'è niente da dire e il sentimento è esatto di qualsiasi alta qualità quindi ha aperto le porte è stato un precursore come sono stati i ramons per il punk in generale come sono state tante band che hanno aperto le strade e aperto il cervello di chi ama la musica e vuole trovare delle delle ambizioni personali ma trovare anche delle contaminazioni con una derivazione certa quindi è un marco di fabbrica quindi cm gomano è un marco di fabbrica che non lascia niente da dire e tutti siamo rimasti scorsi quando ci siamo svegliati abbiamo letto sul telefono sul telefono quella cosa lì poi essendo stati in irlanda più volte insomma quando vai in un pub aspetti sempre che ti facciano un pezzo dei pox quindi se non te lo fanno torni a casa è un po di rato quindi riesce anche che è mai stare angelo per due idea tentato di un mazzaro al suo tempo pesa una cover pensi alla fine il punk è arrivato anche arrivato da per lato buonque quindi benvenne è stata una figura di impuretanza unica nell'ambiente chiaramente non posso che andare a confermare ogni singola vostra parola con quel livello di di commozione che ovviamente ci ci lega ormai da qualche giorno non che non ce l'aspettassimo però insomma era uno di quei momenti che cercavamo di allungare la stessa linea di michael jackson di maradona la regina elisabetta c'era di berlusco no il senso che dice questa gente non morirà mai capito invece c'è un paio di la credibile per carità poi ogni tanto però sembrano quelle che sono lì e non si muoveranno mai dalla loro la sua musica si ma è quello comunque da lasciare i posteri è quello che dicevamo prima con i calli magari per i prossimi vent'anni non ci cagherà nessuno le cose andranno benissimo andranno malissimo ma magari fra cinquant'anni quando il mondo sarà saturo di quella merda che diciamo tutti da tanto cosa si ascoltava in romagna cosa si raccontava in romagna cosa succedeva in romagna e noi racconteremo addirittura di quello che succedeva due secoli prima e questo sarà il crocevia di chi dovrà capire che la memoria più importante di tutto il resto la citazione di un film che adoro che non si è mai finito finché sia una bella storia e quella è un po la sintesi di quello che deve essere la musica ma anche l'arte in generale e rapporti e rapporti allora poco prima di andare online mi dicevate che a brevissimo questione di minuti andate a preparare quello che sarà il concerto di natale che cosa aspettarsi e innanzitutto dove quando è abbastanza percepibile il dove per dare tutte le informazioni a chi magari appunto vuole raggiungervi allora 25 di dicembre al videoclub che tu conosci bene si viense a trovare appena appena tutti appena poi a cesena a san vittore di cesena e è l'undicesimo su dodici anni un anno abbiamo saltato mi sa se l'abbia recuperata ma che l'abbia recuperata per il coppia quindi ormai siamo costanti come il natale stesso quindi la gente si diverte a venireci a trovare dopo il cenone dopo il pranzo dopo poi dopo giorni di festa sempre una festa di famiglia e appunto per commemorare e salutare shane abbiamo deciso di fare i feriti lì in new york ovviamente abbiamo la fisermonica angela che sostituisce perri che canta veramente bene quindi abbiamo anche la voce femminile che calza pennello quindi tributo ai pugs sicuramente ci sarà e abbiamo rispolverato un po di vecchi brani dividiamo il palco con gli urgonauts che è una band agri rock steady della zona che anche loro con il dialetto ci sanno fare bene che anche loro raccontano storie chiave un po più rego un po più un po più diciamo scanchezzanti ma comunque sarà sarà una bella sarà una bella serata bene bene sono sono contento salutatemi tutti gli amici della zona io il tributo lo farò qualche ora prima qua in un pub a milano dove shane tra l'altro era passato durante il il suo tour con i pops e a questo punto l'ultimissima domanda che è una domanda un filo esistenziale che cosa vorreste come obiettivo che la gente ricordasse della vostra terra attraverso la vostra musica fra dieci cinque venti cento anni che fra dieci cinque cento anni ci vedessi ancora insieme a farlo e questo già sarebbe semplicemente tutto quello che potrebbe servire per convincere anche i più imperturbabili forse poi dio chiunque ascolta paessa e tiene a mente un testo come l'epoca uno una favola come quella del mazza pego per me è una vittoria quindi sono leggende storiche possono rimanere stampate e ascoltabili quindi il bello dei lennon cali e che invece non restano lì o perlomeno sono terribilmente legati al territorio ma per fortuna suonano ovunque io mi aspetto veramente di ritrovarvi molto presto forse avremo anche occasione di condividere qualche palco ma soprattutto complimenti per la serietà la passione il cuore gigantesco con il quale voi raccontate la vostra la vostra musica il vostro territorio e soprattutto la vostra amicizia che è la cosa in assoluto più importante ragazzi grazie mille buone prove e buon tutto grazie andrea un abbraccio un bacione a presto grazie ragazzi ciao ciao